Barza, siamo pronti per la partita? Hai fatto i video Un video Barza Adesso andiamo a giocare Siamo pronti ragazzi Stiamo arrivando al campo per giocare O no Pippa Eh si, c'è un'altra cosa da fare Caro Barza Prontissimi LULA Ci siamo Per arrivare in un stadio Ci siamo giunti Ciao vestiti Ciao vestiti